Cittadella, dieci anni di maltrattamenti, vessazioni e violenze sino all'ultimo episodio, l'altro giorno che ha visto una 36enne di origine romena chiedere aiuto alle forze dell'ordine dopo essere stata brutalmente picchiata dal compagno, 46 anni, dell'alta padovana. Un'aggressione a seguito di una lite violenta tra i due, la donna è stata curata all'ospedale, ferite e botte che guariranno in una decina di giorni. Lei ha detto basta, ha raccontato tutti i carabinieri della locale stazione che hanno rintracciato e denunciato la guzzino. Santa Giustina in Colle, ennesima truffa online, vittima una cinquantenne che ha pagato 650 euro versati su una carta prepagata per acquistare una macchina agricola messa in vendita da un 45enne campano. I due si sono accordati, peccato che una volta versato il denaro, del macchinario nessuna traccia. Scomparso anche il venditore, scattata la denuncia ai carabinieri di Campo San Piero, le indagini hanno portato i militari al 45enne denunciato per truffa. Campo San Piero Attenzione all'ambiente, tanto che l'Ulss 6 Euganea mette a disposizione di dipendenti e utenti dell'ospedale di Campo San Piero pensiline fotovoltaiche con stazioni di ricarica per auto elettriche e mezzi ecologici. Due stazioni di ricarica per auto elettriche, una per i mezzi dello Spisal e una per il pubblico, più quattro auto, due elettriche e due ibride. Ai dipendenti dell'azienda sanitaria è stato inoltrato un vademecum di buone pratiche di comportamento per rendere concreto l'uso responsabile delle risorse ambientali.